Diletta Leotta pronta a sostituire Vladimir Luxurya all'Isola dei Famosi. Mediaset ha finalmente sciolto le riserve riguardo la conduzione dell'Isola dei Famosi. Dopo un'unica edizione con Vladimir Luxurya, il celebre Royalty Show è pronto ad accogliere una nuova conduttrice per il 2025. Questa scelta rappresenta una grande novità per Canale 5, che vedrà questa talentuosa presentatrice brillare non solo all'Isola dei Famosi ma anche in un altro programma molto atteso dai telespettatori. La nuova edizione dell'Isola dei Famosi segnerà il ritorno del programma su Canale 5, ma Pier Silvio Berlusconi, pur confermando i piani per il 2025, ha dichiarato Troppo presto per dirlo. Aspettiamo un'evoluzione speriamo anche profonda da parte degli autori. Tuttavia, il sito D'Agospia ha rivelato che il nome della nuova conduttrice è già stato scelto. Secondo D'Agospia, Diletta Leotta, attualmente conduttrice di Dazon, potrebbe essere la nuova regina dell'Isola dei Famosi. Il portale diretto da Roberto D'Agostino ha svelato che la talpa dovrebbe rappresentare per la pompatissima siciliana una sorta di tirocinio per la futura conduzione dell'Isola dei Famosi. Questo suggerisce che Mediaset, che sta già negoziando con Diletta Leotta per la conduzione della talpa, potrebbe proporle anche il ruolo di conduttrice dell'Isola dei Famosi. Nonostante la mancanza di un annuncio ufficiale, le trattative con Diletta Leotta sono in corso, e il suo nome sembra essere il candidato principale per prendere il posto di Vladimir Luxuria e Ilari Blasi, portando una ventata di freschezza e talento al reality show di Canale 5.